Allora, buongiorno a tutti. Io ho preparato delle slide e ringrazio soprattutto la collega perché mi ha aperto la strada. A parte che ho imparato cose nuove, pur essendo anche io uno che si occupa di questa materia, veramente interessante alcuni aspetti, soprattutto questa parte qua dei decreti relativi alla guerra mondiale era veramente curioso. E tra l'altro mi serve anche proprio come introduzione il suo intervento perché io tratterò più o meno le stesse cose ma con un approccio un po' provocatorio per farvi capire quando già una situazione così complicata come quella che ci è stata descritta, può essere ulteriormente complicata da alcuni passati, io li ho chiamati artifici, che i titolari di diritti cercano ovviamente di applicare per poter vantare appunto una maggior tutela, una maggior durata. Vabbè, qua ci sono i miei riferimenti, li metto più che altro per le slide, più che altro per Twitter, vedo che c'è gente che sta facendo foto, se qualcuno vuole tweetare live con l'hashtag del festival, almeno io poi stasera me li riguardo volentieri. Vabbè, questo è sempre lo stesso riferimento. Questi sono più che altro i due libri su cui potete trovare un po' di cose rispetto a quello che vi sto dicendo oggi, in generale sul diritto d'autore è un manualetto abbastanza breve, introduttivo, fatto per persone, il primo capire il copyright, per persone che non hanno una preparazione giuridica alle spalle e questo è un manuale, un saggio sia manuale che saggio critico sul sistema SIAE uscito l'anno scorso e ci sono alcune parti delle slide di oggi che fanno riferimento ad alcuni temi trattati in questo libro. Questa è una slide che utilizzo spesso per i miei corsi e mi serve per darvi una mappa, per orientarvi. Questo adesso cerca di riassumere il copyright, i meccanismi di base del copyright chiamandolo, definendolo come un sistema closed by default. Il copyright essendo una tutela che scatta automaticamente senza bisogno di una registrazione, di un deposito, al contrario di quanto il 95% delle persone crede, il copyright scatta automaticamente con la creazione dell'opera. Nel momento in cui l'opera ha i minimi requisiti di creatività la legge prevede che sia tutelata, al di là che qualcuno che è l'autore o il titolo dei diritti la depositi da qualche parte. Questo fa sì, implicitamente e come effetto collaterale, che sostanzialmente noi dobbiamo per una questione di prudenza trattare tutto come se fosse sotto copyright, a meno che siamo sicuri che non lo sia. Quindi l'approccio deve essere esattamente inverso di quello che succede adesso su internet, per cui se una cosa è su internet vuol dire che è di pubblico dominio, internet è diventato un public domain de facto, tanto è su internet, non mi ha detto nulla nessuno, ma lo prendo, tanto cosa vuoi che succeda. Questo è un po' quello che succede ed è anche legittimo perché le tecnologie digitali ci portano ovviamente a questa facilità d'uso e ci invogliano, c'è il tastino condividi, fai una copia, scarica e quindi non ci preoccupiamo dell'aspetto del diritto autore. Ma se dobbiamo approfondire com'è la realtà dal punto di vista giuridico, questo è quanto. Quindi la regola è sempre che tutto è sotto copyright, a meno che siamo in una di queste situazioni eccezionali, cosiddette libere utilizzazioni, che possono essere o quelle stabilite per legge oppure quelle stabilite dall'autore attraverso le famose licenze creative commons di cui forse parleremo più che altro domani nell'altro incontro. Di questo esale però oggi ci interessa solo che il pezzo là, cioè solo la parte del pubblico dominio, ovvero quando la tutela secondo la legge scade e l'opera, cioè la c barrata di copyright vuol dire che l'opera esce dal campo d'azione del diritto d'autore e quindi diventa patrimonio di tutti. Io ho individuato queste tre fattispecie, perché noi adesso abbiamo parlato con la collega dei casi in cui un'opera è sotto copyright e per il passaggio dei termini previsti per legge cade, come si dice tecnicamente, il pubblico dominio che è il punto B, però in realtà c'è anche un punto A, ovvero ci sono alcuni casi in cui io li chiamo public domain by law, cioè è la legge che ci dice fin dall'inizio che è un'opera del pubblico dominio. Il nostro sistema, il nostro ordinamento prevede un unico caso che è quello dell'articolo 5 della legge sul diritto d'autore che dice che gli atti ufficiali, attenzione, dello Stato e del pubblico amministrazione non sono coperti dal diritto d'autore. Il classico esempio per noi giuristi sono le sentenze, i testi delle sentenze, che sono opere dell'ingegno di un certo pregio a volte, cioè il giudice che estende una sentenza a volte fa dei ragionamenti giuridici, a volte scrive bene, molto più di frequente scrive male, però quella è un'opera dell'ingegno tecnicamente, c'è anche il nome e cognome del giudice, quindi ci sarebbe una sorta di diritto morale, ma in quel caso il giudice non è il signor Mario Rossi, il dottor Mario Rossi, ma è il giudice del Tribunale di Torino, il quale se emette una sentenza lei mette tra l'altro il nome del popolo italiano, quindi quello è un caso di pubblico dominio. Vi invito però a cercare le sentenze su internet, a vedere quante ce ne sono disponibili, tante forse per voi, ma non così tante come sarebbero necessarie per chi fa questa attività come nostra, di giuristi, per la ricerca, perché gran parte delle sentenze sono in realtà inserite in database proprietari e quindi non sono di fatto in pubblico dominio facilmente reperibili. Dopo andiamo a toccare questo argomento. Il caso B l'abbiamo già trattato, quando scadono tutti i diritti in privativa su DS, non sapendo di cosa avrebbe parlato la collega, comunque avevo messo questa nota, non sempre facile definire e caspita, adesso che ho ascoltato l'intervento precedente, probabilmente qua ci starebbero altri 10 slide, io solitamente pubblico dominio nei miei corsi e lo risolvo con questa slide, dicendo che ci sono questi tre casi, il caso B ci porterebbe dietro tutta una serie di eccezioni e di sottoeccezioni che sono quelle che abbiamo visto adesso. E infine c'è un caso C che è quello in cui è il titolare che rinuncia all'esercizio dei diritti, quello che Creative Commons chiama CC0, ok? Sostanzialmente è, tecnicamente non è una licenza, perché è proprio un waiver in inglese, un atto di rinuncia, cioè il titolare dei diritti, l'autore, nella maggior parte dei casi, dichiara che da questo momento in poi non eserciterà più i suoi diritti d'autore, passatemi la battuta è come se dichiarasse di essere già morto da più di 70 anni, ok? Quindi anticipa questa caduta in pubblico dominio, cosa che da noi non è così facile fare, perché noi abbiamo dei diritti di cui l'autore non si può spogliare liberamente, che sono i famosi, dopo li vedremo, i diritti morali. Però le CC0, come tutte le licenze di Creative Commons, sono degli strumenti che noi abbiamo ereditato dall'ordinamento americano e quindi si portano, vengono da un modello giuridico, da un ordinamento giuridico diverso dal nostro, in cui questa cosa è più fattibile, funziona meglio. Quindi questa sarebbe la teoria, adesso per un attimo dimenticate tutti i casi e tutte le particolarità che ci ha detto la collega nel suo intervento, sarebbe facile una pubblico dominio, quando un'opera è caduta in pubblico dominio vuol dire che nessun diritto è più riservato e quindi è di libero utilizzo, senza vincoli e senza condizioni. Oh che bello. Quindi tutti dicono, è facile, è davvero così semplice, in realtà la risposta l'abbiamo già, appunto avendo ascoltato l'intervento precedente, col cavolo, anzi qua inizia il thriller, qua inizia la parte, una storia comica, adesso ho usato IT apposta perché è un clown, quindi dovrebbe essere una cosa che fa sorridere, in realtà poi diventa il mostro che ti insegue negli incubi. Ok, quindi ovviamente no, non è così facile perché ci sono vari vincoli aggiuntivi, è partita una g di troppo, e scaltri artifici con cui i titolari dei diritti cercano di allontanare il pericolo della caduta in pubblico dominio, perché appunto già la legge è complicata e ci dà una serie di particolarità che di cui dobbiamo tenere conto. E proprio grazie a questa situazione abbastanza complessa i titolari dei diritti cercano di cavalcarla per rendere ancora più complessa di fatto poi la caduta nel pubblico dominio. Vi faccio vedere una carrellata di quelli che mi sono venuti in mente, in realtà se ne sarebbero tanti, però oggi volevo solamente buttare qualche pulce nell'orecchio. Allora, innanzitutto se voglio allontanare il pubblico dominio, qual è il modo più semplice e soprattutto più sicuro, più efficace? Chiedere al legislatore di portare a allungare da 50 a 70, da 70 a 90, da 90 a 120, poi prima o poi diventerà eterno questo diritto d'autore. Basta, esatto, basta avere una voce sufficientemente grossa e potente per far pressione sui legislatori e adesso questa qui è una foto che ho fatto io queste state in visita al Parlamento europeo, ovviamente vuoto perché era tipo il giorno di ferragosto o il giorno dopo. Però ecco, è così, è anche quello che stiamo vedendo in questi anni, di recente sono stati allungati i termini per i diritti connessi del produttore e degli interpreti in ambito discografico, quindi da 50 sono arrivate a 70. Il caso Walt Disney, il Mickey Mouse Act, basta cercare in rete, trovate un sacco di articoli, un sacco di informazioni su questi argomenti, inutile adesso, non è il caso adesso di approfondirli tutti. Si può far leva su altri diritti, quindi già esistenti, ad esempio adesso ho messo Giuseppe Verdi. I diritti morali noi abbiamo nel nostro ordinamento, essendo un ordinamento figlio del diritto d'autore francese, quindi dove è la figura dell'autore ad essere al centro e non tanto figura imprenditoriale del produttore o dell'editore, quindi i nostri sono diritti d'autore, della persona fisica che crea e quindi c'è una componente morale e reputazionale molto importante e quindi a volte anche un'opera caduta ampiamente in pubblico dominio dal punto di vista del diritto di utilizzazione economica, il suo uso può essere limitato dai suoi eredi, dall'eredi dell'autore, sfruttando i diritti morali, cioè dimostrando che quell'utilizzo va a toccare un aspetto, diciamo una corda delicata dal punto di vista del diritto morale, non è così frequente effettivamente nella pratica però, a volte può essere sufficiente mandare una lettera di diffida, di diffida facendo, paventando di esercitare uno di questi diritti per bloccare l'utilizzo, ok? Questa è una slide tipica da corso di formazione, quindi forse era per farvi capire che cosa sono, più che altro la definizione, diritti morali sono diritti inalienabili, inestinguibili, strettamente legati alla personalità e alla reputazione creativa dell'autore, vuol dire che l'autore non se ne può spogliare e quando muore, anche quando sono passati 70 anni, 71 o 78 e 120 giorni, cioè quando abbiamo la certezza che dal punto di vista del diritto di utilizzazione economica il termine è scaduto, però i suoi eredi e eventi causa possono continuare ad esercitare questi diritti in uno di questi casi, io sono molto ristretti come vedete. Passiamo però appunto questo è un caso ancora abbastanza marginale, a casi un pochettino più concreti, si può far leva sui diritti connessi, di quanti remaster delle zeppelin dei queen e dei beatles abbiamo bisogno, eppure ogni anno vi invito ad entrare in un autogrill che ormai l'autogrill è il luogo in cui si comprano i dischi, no? No, dove si possono comprare, i dischi quelli fisici intendo, e troverete raccolte di Barry White, remaster delle zeppelin, raccolta di Vascorost, perché si fanno tutte queste attività di compilation, remaster? La versione ufficiale è perché così suonano meglio. La versione diciamo più maliziosa è così abbiamo dato nuova vita, quantomeno, diciamo abbiamo dato nuova vita a un prodotto discografico, quantomeno dal lato del diritto connesso, del diritto del produttore discografico, che è il diritto che parte nell'anno in cui viene realizzato il master, ok? Quindi nel momento in cui c'è una remasterizzazione riparte almeno la durata del diritto del prodotto discografico, se poi in questo remaster abbiamo aggiunto ad esempio una linea di basso o dei cori o delle cose può essere che si facciano ripartire anche dei diritti di interpretazione se l'intervento dell'interprete è sostanziale e riconoscibile. Questi sono i diritti connessi, anche qua li abbiamo già parlati, questa è una zona che io utilizzo per i miei corsi, diritti connessi sono diritti esclusivi su attività simili o connesse a quelle tutelate di diritti d'autore in senso stretto, cioè i diritti d'autore in senso stretto sono i diritti dell'autore, cioè della persona che crea l'opera. Il diritto connesso appartiene a altri soggetti che non sono tecnicamente creatori ma fanno un'attività fondamentale, come ha già detto la collega prima, per rendere l'opera fruibile al pubblico, cioè la interpretano e la registrano, la incidono, la fissano, si dice tecnicamente sul supporto per poi farne copie o diffonderla. E sono questi appunto in ambito musicale, i più importanti sono appunto quelli del produttore dei fonogrammi e i diritti relativi agli interpreti ed esecutori dell'opera musicale che entrano in gioco pesantemente anche nella musica classica. Se voi volete, è un esempio classico questo, mi chiedono, ah ma mi scrivono sul mio blog, ho fatto il filmato del mio matrimonio, della cresima di mio figlio, l'ho messo online e YouTube mi ha tolto la traccia musicale, ma come mai? Era musica classica e io rispondo sì ma chi è che la suonava? Ah già è vero, era la versione di Pavarotti del vincerò, è ancora tutelata, non dal punto di vista del diritto d'autore ma dal punto di vista del diritto connesso, sia discografico, quindi articolo 72 e sia di interprete e esecutore. Ok, quindi anche lì capisco che sia, magari per un giurista è una banalità, per chi non è del settore è un'ingenuità in cui è facile cadere. Questo era quello che dicevo prima delle sentenze, se poi un'opera in pubblico dominio, pensate a un database, adesso prima ho fatto esempio delle sentenze perché per noi giuristi è più simile, pensate anche alle fotografie di cui parleremo domani, sempre domani pomeriggio, delle fotografie di pubblico dominio inserite però nella banca dati di fotografie in cui non c'è più il diritto dei fotografi ma c'è comunque il diritto di colui che ha organizzato il materiale all'interno di una banca dati. Se la banca dati è creativa c'è un diritto d'autore pieno sulla banca dati ma comunque poi sotto ci sarebbe anche questo famoso diritto sui generis, volgarmente detto anche database right, cioè diritto che è un diritto strano del costitutore della banca dati che copre attività di estrazione e riutilizzo di parti sostanziali della banca dati. Quindi anche lì non è detto che se delle fotografie io le trovo su una banca dati, delle fotografie di pubblico dominio, non è detto che se le trovi una banca dati le possa estrarre massivamente e riutilizzare perché anche se non vado a toccare un diritto d'autore potrei andare a toccare un diritto sui generis. Questo è uno di quei casi, casi, il diritto sui generis in cui in realtà il diritto non scade mai. Perché? Perché le banche dati, soprattutto quelle realizzate e messe a disposizione online, sostanzialmente quasi tutta, la maggior parte delle banche dati ormai viene fruita sui server, quindi ho una password e la utilizzo. Poi noi avvocati, io almeno quando ho iniziato a fare la pratica, non tantissimi anni fa, c'erano ancora i DVD con le sentenze e gli aggiornamenti che arrivavano mensilmente ogni tre mesi. Quello è un altro mondo, ma quando un database è fruibile online perché dico che è eterno questo diritto? Perché ogni anno viene spostato il copyright grazie ad un aggiornamento a volte anche minimale, per cui abbiamo finalmente trovato qual è il modo per far diventare il copyright eterno. Basta metterlo online, basta sfruttare il fatto che anche i ceti web lo fanno sotto il sito web, ogni anno io sposto sotto il mio blog il copyright 2015, 2016, 2017. A volte magari i contenuti non sono neanche mai cambiati, però in questo modo sono riuscito a rendere eterno un diritto d'autore che era nato per essere invece limitato. Una cosa che non abbiamo detto e forse è importante dirlo, se voi andate a leggere la versione originaria della Costituzione americana c'era una durata molto corta del diritto d'autore. Anche nel copyright act della regina l'Inghilterra, quello del 1709-1710, erano 14 anni rinnovabili una sola volta per un totale di 28, non dalla morte dell'autore, 14 anni da quando veniva, all'epoca si depositava l'opera, però capite che era una cosa che doveva essere al massimo di 28 anni, l'abbiamo portata a quanto? Perché tutta la vita dell'autore è più 70 anni, più eventuali 8 anni e 120 giorni in questi casi, quindi siamo arrivati a un secolo e mezzo di durata della tutela, è una tutela per i titolari di diritto, esatto, giustamente dice la collega, abbiamo snaturato un diritto che doveva essere dell'autore e l'abbiamo portato ad essere un diritto che tutela tutto un settore industriale, io ogni volta lo dico, noi stiamo parlando di musica, ma sul copyright si basa l'industria che genera maggiore introite al giorno d'oggi, perché se pensate, ma voi pensate anche a Apple, Facebook, Google, Microsoft, quando vi dicono chi è l'uomo più ricco del mondo, è uno che ci ha venduto copyright per 20 anni, qua sotto c'è l'adesivo su questo computer, quella licenza che rende, che vincola la licenza a questa singola macchina, questa roba qua, quello che abbiamo pagato è copyright, quindi è un diritto che ha un peso fondamentale nell'economia mondiale, ecco perché non mollano l'osso e tendenzialmente allungheranno sempre più la tutela, il problema l'avete capito, la provocazione è arrivata, poi magari nel dibattito ne parliamo meglio. Qua entro, poi la collega che ha lavorato in SIAE mi darà una mano, io mi sono scontrato con questo argomento tempo fa, si può far leva anche su un diritto tecnicamente abolito nel 97, il diritto demaniale era un diritto legato anche, che si applicava anche a opere di autori morti da più di 80 anni, appunto chiamato demaniale perché non era più di un singolo soggetto, di un privato, ma era demaniale dello Stato, ok, è stato abolito nel 1997, sono stati tolti dalla legge sul diritto d'autore gli articoli 175 e 176 che erano quelli che si occupavano di questo diritto, piccolo problema, hanno abolito, abrogato gli articoli della legge sul diritto d'autore, ma non hanno abrogato un articolo del reggio decreto di esecuzione della legge sul diritto d'autore che esegue questi articoli che voi dite, ma non sarà una cosa automatica, se viene meno la norma principale, la norma che la attua dovrebbe venire meno, no, cioè su questa cosa ci siamo trovati a discutere io e altri giuristi, anche giuristi di un certo livello, perché se voi andate a cercare sul sito ad esempio del professor Robertazzi che redige tutti gli anni una versione aggiornata del codice, diciamo di tutte le leggi in materia di diritto d'autore, c'era ancora fino all'anno scorso l'articolo 51, 52, non me lo ricordo più, ce l'ho scritto qua, 51 del reggio decreto, come abrogato, poi finalmente il famoso sito normativa.it che è tenuto dal governo italiano e quindi dovrebbe essere la fonte di riferimento per capire se una norma è ancora in vigore o meno, ha chiarito e ha chiarito purtroppo che questo articolo è da considerare ancora in vigore, perché pur parlando del diritto De Magnale si occupa anche di altri argomenti, infatti c'è proprio un anche all'interno dell'articolo, dopo ve lo faccio leggere, che secondo ovviamente un'interpretazione conservativa, restrittiva, fa in modo che questo articolo rimanga in vita. In più, visto questo principio, su questo principio si può fondare tutta una prassi burocratica di cui è molto difficile liberarsi, adesso vi racconto, come immagino ho messo il bordero siae, immagino che sia abbastanza evocativo per molte persone, il vecchio bordero è quello ancora cartaceo, adesso si stanno evolvendo verso il bordero digitale online, però questo è. Ecco l'articolo, articolo 51 del reggio decreto 1369 del 1942, una norma come vedete molto moderna, molto attuale, che esegue un articolo 175 della legge sul diritto autore che è la 73 del 41, abrogato nel 97. Quindi è un articolo che esegue una norma che non esiste più. E dice al comma 1, sono tre commi, ho messo solamente il comma 1 perché è quello che ci interessa, che chi dirige l'esecuzione di opera musicale di qualsiasi natura, ha l'obbligo anche ai fini del controllo sull'esecuzione di opere soggette al pagamento del diritto demaniare, quindi anche ai fini del controllo, quindi se non ci fosse stato quello anche, diciamo il senso generale di questa norma potrebbe essere inteso diverso, comunque, diversamente, comunque ormai così è, anche fino al controllo sull'esecuzione di opere soggette al pagamento del diritto demaniare, di redigere per iscritto prima dell'esecuzione o immediatamente dopo il programma di tutela, scusate, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite e rappresentate e di consegnarlo, di trasmetterlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto o a persona adatta all'ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo di trattenimento, il famoso, quello che volgarmente poi chiamiamo bordero, in realtà è programma musicale, è un documento in cui vengono inseriti tutti i brani eseguiti, beh, morale, questo fa sì che sostanzialmente anche quando organizzo spettacoli di musica caduta in pubblico dominio ci sia sempre il dubbio, devo o non devo compilare il bordero, è il dubbio che chi ha avuto a che fare con la SIAE sa che questi dubbi purtroppo a volte si protraggono per molto e, come dire, fermentano, soprattutto adesso che c'è la rete per cui girano le informazioni, perché cosa succede? Che si va alla SIAE di Torino, si ottiene una risposta, si va alla SIAE di Chieri o alla SIAE di Novara e si ottiene una risposta diversa, caspita, allora si crea quella incertezza e quel dubbio che fanno male e danno un massimo il potere al burocrate che invece dice da noi si è sempre fatto così, o no? Questa è la risposta che spesso ci sentiamo dire. Questa è un'altra fonte, cioè un accordo sottoscritto tra SIAE e ANCI, quindi associazioni comuni, la fonte è sul sito dell'ANCI, però non è una norma giuridica nel senso pieno del termine, è un accordo, però questo è quello che si trova se cercate informazioni su questo argomento, ovvero a maggior chiarimento delle istruzioni operative fornite con la nota 2.782 del 13 giugno corrente anno, corrente anno dovrebbe essere, se ricordo bene, il 2006, scusate non l'ho aggiunto però sul sito lo trovate, quindi sono già passati dieci anni, si precisa in merito la possibilità prevista dall'articolo 7 di sostituire il programma musicale con una autocertificazione, quindi in caso di opere in pubblico dominio si può non compilare il borderone nel senso pieno, il programma musicale, scusate, in senso tecnico, ma procedere con un'autocertificazione, però come si fa questa autocertificazione è stato spiegato soprattutto ai comuni perché sono quelli che poi organizzano la maggior parte degli spettacoli e si interfacciano con la SIAE per questo tipo di problema. Quindi in conseguenza della legge 30 del 97 che ha abolito il diritto demaniale ed abrogato l'articolo 175 e 166 della legge sul diritto autore, le utilizzazioni delle opere di pubblico dominio sono libere, quindi ok, il principio ce l'ha in un certo senso confermato e ci dà maggior tranquillità, però dopo parte tutta la trafila che ci spiega cosa dobbiamo fare. La redazione del programma musicale può pertanto essere sostituita, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori, e continua lì in questa slide, l'autocertificazione deve essere presentata anticipatamente rispetto all'evento spettacolistico, quindi se organizzate un evento di musica classica, quindi tutto di pubblico, scusate, non di musica classica, di musica di pubblico dominio, non vuol dire che non dovete andare a dirlo alla SIAE, detto proprio volgarmente, comunque la SIAE lo vuole sapere prima, perché? Perché come dice alla fine potrebbe venire a controllare e quindi vuole sapere dove fate l'evento e cosa state facendo, ok? Quindi è un pubblico dominio asterisco, diciamo, pubblico dominio fino a un certo punto, e può essere prodotta soltanto nel caso in cui il repertorio programmato prevede l'esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate. Tale dichiarazione dovrà essere sempre corredata ad un elenco dettagliato e fedele dei brani che saranno utilizzati, o in sostituzione da locandine, programmi di sale e qualsiasi altra documentazione idonea consentirà alla SIAE di verificare la correttezza di quanto segnalato, ove se ritengo opportuno potranno essere disposti accertamenti per riscontrare la rispondenza del repertorio eseguito e quello dichiarato. Aggiungo subito un'altra provocazione, ma non l'approfondisco perché non ce la facciamo, c'è tutto il problema della musica improvvisata, improvvisata veramente, per cui gli autori dicono ma io cosa scrivo in questo documento se vado a improvvisare, se facciamo una jam session jazz e suoniamo per mezz'ora roba che ci viene in mente sul momento di fare, quindi altro problema. E quindi in generale, al di là di questi casi che abbiamo visto e anche di quelli che se l'ha segnalato la collega prima, che già ci fanno venire abbastanza ansia, questa è un'immagine che ho trovato cercando come parola chiave ansia, far leva su quello che gli informatici chiamano FOOD, ovvero Fear, Uncertainty and Doubt, cioè inoculare il dubbio e l'incertezza, per cui onde evitare di avere problemi io mi astengo da fare cose, ok? E questo è un po' il problema con cui ci scontriamo, perché anche quello che vi dicevo prima, il problema del chiedere ad un ufficio SIAE di una città e ottenere una risposta da quella che si è sempre avuta in un'altra città, crea il dubbio, ma chi è che ha ragione allora dei due, questo o quello? Quando soprattutto ti stai riferendo a un ente che dovrebbe essere nazionale, la SIAE, la società italiana, autore di editori, ma se appunto in un posto ti forniscono una risposta diversa dall'altra, cominci a pensare che non sia tanto la norma a essere rispettata, ma la prassi a essere applicata, il che appunto crea questa cosa, cioè il Fear, Uncertainty and Doubt, cioè paura, incertezza e dubbio. Questa è la frase che tendenzialmente viene a chi organizza eventi, a chi fa cose, a chi vuole fare anche a volte attività meritorie, di pubblico dominio, a scopo di divulgazione culturale, ma se poi qualcuno mi fa causa e quindi a volte non potendoci permettere un approfondimento, perché costa andare dall'avvocato Riprandi, dall'avvocato Chivienti, da qualcun altro per chiedere, non è più, ah ok, e chiedere una consulenza ha un costo e quindi a volte per non assumersi questo rischio e non accollarsi questo costo ci si astiene e questo è esattamente quello che non volevano coloro che hanno creato il diritto d'autore e il copyright qualche secolo fa. Il diritto d'autore e il copyright, in generale la proprietà intellettuale, anche quando si parla di brevetti, nasce come incentivo alla creatività e all'inventiva. Qua, snaturandolo come abbiamo descritto adesso, l'abbiamo portato fuori da questo suo binario e l'abbiamo fatto inventare qualcosa che invece induce a non fare. Questi sono altri esempi, li abbiamo già detti, quindi inutile approfondire, Anna Frank non è on topic, oggi si deve parlare di musica, però è un esempio interessante, l'abbiamo già approfondito. L'altro esempio qual è? Cosa vi fa venire a mente è quell'immagine, no? È nel titolo della nostra conferenza di oggi, Marilyn che canta Happy Birthday, un video abbastanza noto e che ci ricorda appunto anche la vicenda di questa canzoncina che sembra di pubblico dominio perché tutti la cantano, però io ho scritto un articolo in cui spiegavo che solo da una sentenza di quest'anno di una corte americana abbiamo avuto la conferma che si potesse utilizzare ed è ancora una sentenza di primo grado, potrebbe essere ancora messa in discussione. Anche qua ci sarebbe da approfondire tutta la storia, non abbiamo tempo, è semplicemente come spunto di approfondimento. In conclusione io cosa suggerisco? Già il fatto che ci sia un evento come questo è importante, stiamo usando la direzione giusta, è un buon antidoto per non farsi fra virgolette fregare da chi vuole invece aggiungere dei vincoli a qualcosa che dovrebbe essere tecnicamente ormai di uso libero, è quello di informarsi, essere consapevoli. Lo diremo domani bene anche sulla parte relativa alle fotografie. Io mi sono trovato a discutere con agenzie che facevano foto aeree e le spacciavano come foto creative e volevano vantare un diritto d'autore di 70 anni ed erano delle foto fatte da un software in realtà, cioè fatte da un aereo che però aveva una macchina che faceva delle foto in serie e venivano messe in fila da un software, diventavano ortofoto secondo dei criteri tecnici ingegneristici per cui non c'è creatività e quindi rientrano le fotografie al massimo quelle tutelate dai 20 anni dallo scatto, eppure anche lì c'è stato bisogno di discutere e trovarsi a creare conflitto. Avere una maggiore consapevolezza dovrebbe già aiutarci a metterci nella posizione giusta. Il fatto che appunto sia organizzato un evento come questo è già un passo, il fatto che qualcuno sia venuto, che abbiamo fatto la registrazione che poi verrà diffusa, spero che aiuti anche altre persone e quindi niente, io vi ringrazio, qui ci sono i miei riferimenti.